Devo dire che in effetti lo spettacolo ti offre il successo anche più di quanto pensi ti offre maschere che indossi ma che fanno troppo spesso di te un uomo in un altro senso devi mettere in conto che certe persone conoscono solo una faccia di te si accontentano solo di quell'impressione la faccia che scelgono apposta per te questo è il prezzo del successo la notorietà è un difetto che non si capisce a fondo per il mondo resti solamente quello che hanno visto nello schermo ma non c'è interesse per chi sei tu in fondo si mi piace correre rischi ma sempre dietro uno schermo ma stavolta mi sa che uno schermo non è e ora che mi trovo in gioco no non posso giocare poi troppo l'esperienza mi aiuterà quella del set devi mettere in conto che certe persone conoscono solo una faccia di te si accontentano solo di quell'impressione la faccia che scelgono apposta per te questo è il prezzo del successo la notorietà è un difetto che non si capisce a fondo per il mondo resti solamente quello che hanno visto nello schermo ma non c'è interesse per chi sei tu in fondo se Grazie a tutti.